Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni ha lanciato un suo comitato per il Sì al referendum costituzionale. SPQF, Senatus, Popolusque e Florentino. Ma qual è il nesso con il referendum? Gianni ha ricordato che nella Sala del Duecento di Palazzo Vecchio, la Sala delle Decisioni, da almeno cinque secoli c'è un capitello con il marchio SPQF. Questo perché la signoria fiorentina volle riprendere un capitello di epoca romana, perché a Firenze, nell'età di Diocleziano, aveva luogo il governatorato della regione Tuscia e Umbria, che aveva un proprio Senato. Il Senato sarà la più bella novità delle riforme costituzionali, perché porterà Roma ad avere una direttissima di informazioni, comunicazioni e decisioni sulla base delle spinte che vengono dalle comunità locali. E allora in questo comitato del Sì il titolo sarà proprio per metterla in salsa di fiorentinità SPQF, Senatus Populusque Fiorentino. Il nuovo Senato sarà composto da 100 persone, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, con una interlocuzione diretta col Presidente del Consiglio e con i Ministri. E Gianni sottolinea che sarà il luogo che darà voce ai territori. Grazie. 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 Grazie.